Che c'è? Sto facendo la ratatouille. Allora come vuoi che la prepari? Ratatouille devono essere impazziti. Allora come vuoi che la prepari? No, non può essere. Chi prepara la ratatouille? Io esigo saperlo! Non ricordo l'ultima volta che ho chiesto a un cameriere di porgere i miei complimenti allo chef. E ora mi trovo nella straordinaria circostanza in cui il mio cameriere è lo chef. Grazie, ma stasera sono solo il suo cameriere. Allora chi ringrazio per la cena? Ah!